Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di mister Marco Zaffaroni, siamo alla vigilia di Ellas Verona Monza, 26esima giornata di Serie A. Iniziamo pure la conferenza, prego Alessio Facincani, grazie. Buongiorno mister, ci tocca credo partire un po' dalla nota un po' dolente, dopo il successo di ieri sera dello Spezia, assume ancora più valore la gara di domani per l'Ellas? Ma secondo me non dobbiamo essere condizionati dai risultati degli altri, dobbiamo pensare a noi e quindi che domani bisogna fare una partita di grande intensità, di grande carattere, di grande forza, consapevoli che giochiamo contro un avversario forte che sta facendo un grande campionato, però queste cose sono indipendenti dal risultato degli altri. Come ho sempre detto non dobbiamo farci influenzare da questo, dobbiamo pensare a noi e cercare di fare risultati noi attraverso delle prestazioni. Quindi, ripeto, non dobbiamo avere questa cosa di guardare gli altri perché non ci riguarda, perché non dipende da noi. Noi dobbiamo pensare a fare la prestazione, come ho detto, quel tipo di prestazione che è importante e poi andare avanti per la nostra strada. Questa è l'unica cosa che noi dobbiamo e possiamo fare. Il Veroni in questo periodo ha giocato spesso dopo lo Spezia, di cui a Pasqua capiterà altre due volte su tre. Le chiedo se si aspetta una maggiore attenzione nella prossima comunicazione dei calendari da questo punto di vista, proprio sulla Corsa Salvezza. Sì, ma anche questo, ripeto, tutte le cose che non dipendono da noi, secondo me dobbiamo spendere il meno energie possibile. Perché questa è la forza che bisogna avere per intraprendere il percorso che stiamo facendo. Quindi riuscire a non essere condizionato da cose esterne a quello che dipende da noi. Questo è fondamentale. Quindi anche il fatto che i risultati, eccetera, per riuscire a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati, tu devi avere questa forza, cioè la forza che indipendentemente da quello che succede agli altri, tu vai avanti per la tua strada. Se è chiaro che non hai questa forza, questa capacità, allora il percorso diventa difficile. Noi abbiamo le qualità per poterla avere e quindi dobbiamo andare avanti per la nostra strada. Le chiedo qual è il borsino delle energie del gruppo? Qual è anche la situazione degli infortunati, mister? Sì, la situazione rispetto a domenica scorsa, sicuramente perdiamo Siril che ha avuto questa distorsione alla caviglia, quindi non credo che sia una cosa gravissima, però sicuramente per la partita di domani non ce l'abbiamo. E adesso, vedendo anche l'alimento di oggi, però è molto probabile che tra i convocabili ci sia Ritornino Veloso e Diurici. Questa è un po' la situazione attuale e da un punto di vista, ripeto, delle energie nervose, è chiaro che, come abbiamo sempre detto, è un cammino comunque molto intenso, però sicuramente i ragazzi hanno voglia di dimostrare di poter riuscire nel nostro intento. Alberto Fabri, Ella Slaio. Ciao mister, buongiorno anche da parte mia. Come sta Duda, se sarà della partita e le torno a chiedere nuovamente, visto che le avevo già chiesto anche nel pre-partita contro lo Spezia, se c'è la possibilità, semmai, di avere Abilgard in mezzo al campo con Duda spostato sulla tre quarti, visto anche l'assenza appunto di Ingonge, che se non ricordo male, proprio Duda sulla tre quarti è il ruolo ideale per quelle che sono le sue caratteristiche. Sì, no, Duda direi che è uscito perché aveva preso una botta e in quel momento non riusciva più a proseguire, però in settimana i primi allenamenti li ha saltati, poi secondo me dovrebbe essere assolutamente disponibile, quindi da quel punto di vista non dovrebbero esserci problemi. Per quanto riguarda il discorso tattico, sicuramente ci sono tante opzioni da questo punto di vista, perché comunque ci sono tanti ragazzi che possono giocare, abbiamo visto che stiamo cercando di ruotare tutti le pedine perché questo credo che sia fondamentale, proprio per tornare al discorso di prima, c'è un grande dispendio di energie, fisiche, nervose e quindi è fondamentale riuscire a ruotare tutti e che tutti siano a disposizione, sia dall'inizio ma soprattutto diventano determinanti, secondo me più andremo avanti, anche i cambi e le sostituzioni, perché a partita dura 95 minuti avere dei ricambi che entrino convinti e con la voglia giusta diventa fondamentale, quindi da questo punto di vista, come hai detto tu, sono soluzioni sicuramente possibili e poi, come sempre, è meglio sempre aspettare anche l'ultimo allenamento, perché abbiamo visto che soprattutto nell'ultimo periodo ci sono sempre delle sorprese, quindi aspettiamo a dare dei giudizi definitivi. Tornando a quel che riguarda invece la partita di La Spezia, all'ultimo ha dovuto rinunciare a Montipò, chapeau per Illy, perché insomma ha salvato il risultato, ha fatto davvero molto molto bene Simone, le chiedo quindi come sta appunto Montipò se tornerà lui a guidare la retroguardia tra i pali e la scelta di Doig, alla Spezia non l'abbiamo visto, Doig, peraltro convocato con l'Under 21 della Scozia, tornerà ad essere una delle frecce sull'esterno del campo? Grazie. Sì, no, Montipò ha recuperato, quindi da questo punto di vista non ci sono problemi, così come Joshua sta bene da questo punto di vista, sia fisicamente che mentalmente, quindi sicuramente è un giocatore sul quale noi puntiamo molto, poi come ho sempre detto, mi rifaccio al discorso di prima, stiamo parlando del ragazzo del 2002 che ha la prima esperienza in questo campionato, quindi ha tirato tanto la carretta e quindi è normale che ci siano delle rotazioni di questo tipo, però sicuramente Doig è un giocatore chiaramente sul quale noi puntiamo molto. Luca Chiarini, Tutto Mercato Web. Ciao mister, buongiorno anche da parte mia, io invece volevo chiederle, lei ha detto che c'è la possibilità concreta che Veloso tra gli altri rientri, è un'opzione anche dall'inizio eventualmente o soltanto a gara in corso, rifacendomi al discorso che faceva lei sui subentranti, e poi le chiedo, lasagna invece può essere una delle opzioni per l'attacco? Abbiamo detto della possibilità di avanzare Duda, però lei ci ha già abituato a mettere lasagna nei due dietro la punta, le chiedo se ci sta pensando. Sì, sicuramente questa è un'opzione, per quanto riguarda il discorso di Miguel, logico che stiamo parlando di un ragazzo di un'esperienza incredibile, che da questo punto di vista il suo rientro è molto importante sia per quello che farà sul campo, ma soprattutto anche per quello che può dare in momenti comunque come saranno da qui alla fine, dove chiaramente la sua esperienza ci sarà enormemente utile. Chiaramente adesso rientra dopo un periodo lungo di assenza, sarà sicuramente tra i convocabili, quindi ripeto, è un giocatore che ci può dare tanto sia materialmente da un punto di vista proprio oggettivo sul campo, ma soprattutto anche da un punto di vista di quello che può dare come esperienza all'interno del gruppo. Poi le chiedo come sta Ceccherini, nel senso che è un elemento che vi sta un po' mancando in questo momento, se ci fa un po' il punto della situazione. Ceccherini sta decisamente meglio, ci sono delle possibilità, si parlava che potesse rientrare dopo la sosta, però credo che ci siano anche i margini per poterlo vedere anche tra i convocabili con la Sampdoria, quindi da questo punto di vista le cose stanno andando bene, e quindi ci sono possibilità che possa rientrare con la Sampdoria. Tommaso Badia, Calcioellas. Buongiorno mister, io volevo chiederti, riallacciandomi un pochino a quello che abbiamo visto ieri sera, insomma lo Spezia che batte l'Inter, negli anni scorsi siamo abituati a un Verona che con le big rosichiava spesso punti, quest'anno questa cosa ci è un po' mancata secondo te? Sì, sicuramente sì, però ripeto, sono colpi che per l'economia del campionato sono cose importanti, perché magari sulla carta sono punti che non ti aspetti, e che te li ritrovi, e quindi da questo punto di vista sicuramente sono risultati importanti, soprattutto che ti danno grande morale, grande fiducia, noi se vogliamo contro la Lazio, parlo dell'ultimo periodo, contro la Lazio sicuramente è stato un risultato importante, che poteva anche essere una vittoria, è chiaro che nel percorso finale che faremo, questo tipo di risultati che ci è mancato fino adesso, contiamo prima o poi di riuscire a farlo, perché ripeto, sono iniezioni al di là dei punti pratici, sono iniezioni soprattutto di grande fiducia per la squadra e per il gruppo. Poi insomma ve lo chiedi un pochettino che Monza ti aspetti, ecco, una squadra che dopo un avvio ostentato è rinata, adesso viaggia a metà classifica, insomma da neopromosso, sta facendo un po' quello che ha fatto il Verona da neopromosso tre anni fa. Sì, è una squadra che ha grande qualità, ha preso giocatori importanti, ha un'ottima organizzazione di gioco, hanno qualità soprattutto nel palleggio, gestiscono molto bene la palla, hanno individualità che comunque possono risolvere la partita, quindi chiaramente è una squadra che i punti che sta facendo se li ha meritata la grande, quindi come ho detto prima, per noi sarà una gara sicuramente difficile, però è chiaro che dobbiamo mettere dentro il campo tutto quello che abbiamo, soprattutto da un punto di vista dell'aggressività, soprattutto da un punto di vista dell'attenzione, perché è logico che dobbiamo cercare di controbattere colpo su colpo a questa squadra per cercare di fare un risultato positivo, quindi le armi che dovremo utilizzare saranno sicuramente queste, grande voglia, grande cattiveria, grande voglia di fare risultato, mantenendo sempre comunque i giusti equilibri perché quelli sono fondamentali. Gaudiu Pedalino, RCS. Ciao mister, buongiorno anche da parte mia. Allora, nelle ultime partite è mancato moltissimo chi segnava gol, che è in questo gioco la cosa principale e più importante. Domani, hai detto che sarà fra i convocati Milan-Diuric, pensi di poterlo utilizzare o solo a partite in corso? No, anche lui è logico che ha fatto, il ragazzo rientra dopo un periodo di assenza, quindi chiaramente ci vuole la giusta anche cautela, però il ragazzo comunque ha dimostrato di star bene, adesso poi le valutazioni, se dall'inizio o meno, dall'inizio alcune volte quando c'è un recupero devi stare attento a non esagerare dall'altra parte, quindi come sempre valutando le cose con lo staff medico poi si vedranno le cose, l'importante è che sia dentro il gruppo, che sia a disposizione, se è convocabile sicuramente vuol dire che un pezzo di partita magari la può anche fare, e quindi questo è importante, perché comunque in questi casi è logico che da un lato c'è la voglia di recuperare i giocatori sempre più in fretta possibile, dall'altro devi stare attento a non far danni, ad accelerare troppo le cose, quindi anche qua la parola equilibrio è fondamentale, però ripeto, sicuramente tra i convocabili, quindi vuol dire che sicuramente anche magari uno spezzone di partita lo può fare. Tornando sempre al discorso di chi segna, tu che li segui tutti i giorni, queste cose qui hanno lasciato delle scorie nei giocatori o hanno messo da parte, hanno voltato pagina e domani si presenteranno con la mente molto libera e decisi a dare risultati? Sicuramente bisogna mettere da parte queste cose e ripeto, pensare alla gara di domani, quello che è stato è logico che lo analizzi, cerchi e stiamo cercando in tutti i modi di migliorare questa fase sulla quale riconosciamo che in questo momento siamo carenti, come abbiamo detto soprattutto la fase di ultimo passaggio, la fase di finalizzazione, sicuramente è un momento che siamo carenti e quindi ci stiamo lavorando, però da un punto di vista mentale una volta che è chiuso un capitolo si chiude e si pensa all'altro perché domani non ci devono essere scorie di questo tipo per il tipo di gara che dobbiamo fare, ci deve essere grande convinzione, grande voglia, sapere che i ragazzi stanno lavorando bene e quindi quando stai lavorando bene non devi avere timori particolari, devi essere convinto di quello che fai, sempre senza presunzione, ma consapevole della tua forza, delle tue armi, metterle nel campo e giocarti la partita.